Ciao a tutti, io sono Mercuri Christian, il proprietario del Dottor Gae di Lodi e oggi vi mostro come facciamo lo Sharon, uno dei primi drink della nostra signature drink list che è ispirata ai personaggi di Dragon Ball, quindi per tutti i fan degli anime guardate questo drink è uno shakerato, andiamo a fare un twist sulla base smash, andiamo a mettere 45 ml di bitter bianco moroni 15 ml di p31 25 ml di estratto di lime 15 ml di sciroppo di zucchero 15 gr di rucola questo è un ottimo drink da bere insieme al nostro aperitivo che vi consiglio di venire tutti a provare 5 gocce di stillavant e dopodiché andiamo a shakerare creiamo una foam insieme al mini pinner e andiamo a mettere una fogliorina di rupa ecco a voi, il drink servito vi aspettiamo per bere questo fantastico drink al Dottor Gae in Corso Umberto 59 Ciao! 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 Grazie a tutti